Se ho ben capito, alcuni scienziati affermano che, per la fisica quantistica, tutto è energia. Perché l'energia collassi e diventi materia, occorre che l'individuo si fermi ad osservare l'energia. Se l'individuo oscilla e non osserva l'energia, questa non collassa e non diventa materia. Allora, l'evoluzione di cui voi parlate dov'è? È nell'attenzione che l'individuo pone nell'osservare quella che per la scienza è energia e che per noi è coscienza. L'osservazione presuppone una maggiore evoluzione e l'oscillazione una minore evoluzione. Tanto che, se l'individuo osserva, è creatore e se oscilla è ancora creatura. Tanto che, se l'individuo osserva, è una maggiore evoluzione. Tanto che, se l'individuo osserva, è una maggiore evoluzione. Grazie a tutti.